Io volevo chiedere due cose, la prima a Emanuele Montanelli, volevo chiedere questo, perché è un classico di una domanda da fare a un progettista dopo che ha sviluppato un lavoro, perché chiedevo prima quanto ha divissuto questo showroom e non ha ancora compiuto un anno di vita. Ora faccio una precisazione, quest'ala nello specifico, cioè questo luogo dove noi siamo, è stato fatto grazie all'architetto Montanelli, non è neanche passato un anno credo, è fresco di nascita, è stato battezzato da neanche un anno, ma è l'ala più dinamica di questo showroom, e l'anima forse di ciò che cerchiamo di trasferire a voi, cioè il luogo di comunicazione dell'azienda verso voi e il luogo dove voi invece portate dall'esterno l'idea, il progetto da poter utilizzare attraverso i nostri prodotti. Quindi questa è un'ala che credo pochi produttori italiani hanno e possono vantare e di questo lo sottolineo, perché è uno sforzo dell'imprenditore, dell'azienda di aver volutamente cercato uno spazio di questo tipo per manifestare di sé certe specificità che non sono solo da catalogo o da listino, ma sono da vivere in un luogo appropriato che è questo. Ok, quindi volevo chiedere a Emanuele, rispetto a tutto lo spazio che in maniera progressiva hai poi sviluppato, ci sono delle scelte che oggi non rifaresti o magari in un discorso di evoluzione hai già pensato di poter poi migliorare o comunque cambiare, modificare in modo anche plasmabile sul contesto dove siamo oggi. Chiudo dicendo che oggi poi non dimentichiamoci che uno spazio di millimetri quadrati come questo che sta a Lissone ovviamente riceve feedback da tutto il mondo perché è in rete, viene visitato da tantissimi utenti, quindi io sicuramente non rifarei solo per piacere ma rifarei per necessità. È un grandissimo impegno essere un'azienda innovatina e dinamica oggi, è impegno economico, di sforzo, è un grandissimo impegno anche per il progettista, il progettista deve dimostrarsi attento a tutto quello che accade, quindi è uno studio continuo, una ricerca continua, che per me è un po' il piacere del mio lavoro. Ok, poi volevo invece chiedere a Massimiliano, mio omonimo, rispetto a quello che hai detto tu, però oggi forse la tematica cruciale, credo di tutti gli operatori oggi in sala, è quella del contenzioso legato agli insoluti. Uno può fare tutti i controlli a monte del mondo, poi se a fine mese non viene pagato il proprio compenso, questa è la problematica. Adesso senza banalizzare, però volevo chiederti se ci sono, soprattutto dal punto di vista contrattualistico, se potevi dare qualche piccolo suggerimento, perché poi oggi credo che purtroppo questa sia una tematica molto sentita. Sì, io ho volutamente lasciato cadere alcune informazioni per non essere troppo preciso, perché diventava forse un po' argomento troppo alternativo rispetto alla presentazione un po' in generale. Invito tutti, molto modestamente, a evidenziare fin da subito quello che io ho cercato di dire prima, cioè che voi stessi, come chiunque lavora in questo ambito, deve tenere sotto controllo l'area economica, quindi il rapporto costi e ricavi, dopodiché anche l'area finanziaria. Ci possono essere, finanziaria vuol dire gli incassi, gli insoluti sono mancati incassi, con le uscite che possono essere legate ai costi vivi che poi uno deve sostenere per la realizzazione. Modalità molto concrete, molto pratiche per bypassare questo problema, è evidenziare, per quello dico probabilmente anche da parte di un progettista, avere un'attenzione minima a questi aspetti, porta poi il cliente a sentirsi meno, diciamo, nella situazione nella quale possa alla fine di tutta l'opera dire e ma ti pagherò quando decido io alle calendie greche e così via. Le modalità possono essere quelle di legare questa marginalità, evidenziandola, legata a quella che può essere il rapporto tra costi e ricavi nella realizzazione di una commessa, a quello che è l'aspetto finanziario, quindi delle entrate e delle uscite. Per cui una volta che si riesce a far vedere che grazie al vostro prodotto finale, quindi alla vostra commessa, la realizzazione a livello di ricavi è sufficientemente elevata, quindi il cliente ha un rapporto tra valore della produzione e costo da produzione o margine operativo lordo, che è il primo dato che risulta da un conto economico superiore a una certa percentuale, ecco a quel punto avere una sorta di richiesta immediata dal cliente di avere voi soddisfatti immediatamente l'aspetto finanziario. Dopo se volete la conoscenza approfondita dei bilanci dei clienti permettono anche di fare una sorta di scrematura, cioè prima di andare a proporsi pensare a questo aspetto. Altra piccola regoletta che posso darvi io è valutare voi all'interno dei vostri studi di quali sono i costi fissi e i costi variabili e avere una certa sorta di, chiamiamola, pretesa economica nei confronti del cliente dicendo sì, è vero che posso anche accettare di essere in parte socio di questa attività non arrivando a ottenere la massima soddisfazione fin quando anche tu non ottieni dal cliente quello che è il pagamento e quindi l'incasso. Però almeno la copertura di quelli che sono i miei costi fissi che io vado a sostenere quotidianamente e mensilmente potrebbe avere un senso, un riconoscimento immediato. Potete farlo dal punto di vista di una percentuale però è qualcosa di un pochino più aleatorio potete farlo con un riscontro oggettivo sottolineando con dei numeri dicendo guarda che tutti i mesi per questa commessa io sostengo a titolo di costi fissi questa cifra riconoscimola immediatamente poi dopodiché potete fare tutte quelle che sono le vostre istanze, richieste e così via. Ho risposto. Grazie. Invece volevo chiedere al direttore visto che siamo nell'area della customizzazione e c'è una platea di progettisti se uno di loro ha un'esigenza appunto di realizzare un progetto con delle personalizzazioni molto spinte qual è il servizio che l'azienda offre al progettista al di là di essere oggi qua presente ovviamente cioè proprio in maniera molto pragmatica Nel pensare ad un prodotto seriale esistono dei canoni fissi nel pensare ad un prodotto customizzato come dice giustamente l'architetto Montanelli troppo abusato la possibilità di rendere un prodotto personalizzabile perché l'architetto lo intenda più estetico più penetrante più forse orientato all'esigenza del cliente va di volta in volta analizzato il produttore ha delle linee di produzione che seguono un protocollo che permette di produrre veramente le cose voi per un attimo io faccio una piccola parentesi dovete pensare come è costituito l'ambito produttivo di una vera azienda produttiva ed è costituito da una macchina in linea che squadra, borda, fora e permette di avere tutta una famiglia di prodotti che noi soprannominiamo semilavorati che sono ante, spalle, fondi di armadio, top superiori tutti questi viaggiano in un modo che in azienda si producano e si facciano secondo un certo canone fuori da questo canone esiste un secondo modo di leggere questi prodotti adattabili ad un'esigenza di vestibilità di un ambiente del cliente questa vestibilità che è un'esigenza prioritaria di alcuni clienti che vogliono distinguersi è un'esigenza che va applicata a una modifica di quelli che vi ho citato prima come elementi seriali e quindi di volta in volta come giustamente Massimiliano mi chiede siamo in grado di variare questo assetto del prodotto bilanciandolo in funzione anche di logiche possibili e praticabili vuoi vedere i costi vuoi vedere le vere effettive esigenze estetiche di un prodotto che quando viene alterato perde i suoi equilibri il nostro mestiere di produttore non è perfetto il vostro mestiere di interfacciare la clientela è diventato difficilissimo credetemi ma questo lo vivete tutti i giorni non a caso l'esercizio sempre più frequente di un'analisi finanziaria a monte con addirittura l'indagine sul nostro committente se è solvibile e se ci pagherà perché questo è diventato un problema quotidiano quindi il rimando ad atteggiamenti culturali poco coerenti dopo che abbiamo fatto uno sforzo nostro intellettivo progettuale ci siamo orientati, votati alla committenza in modo assoluto abbiamo una risposta finanziaria quanto meno imbarazzante io non so quanti di voi oggi possano dire di essere sempre stati soddisfatti di questo rapporto tra voi e la committenza ma in molti casi non è valsa la pena di utilizzare un bel prodotto non è valsa la pena di essere stati coerenti con tutta la linea del nostro modo di interfacciarci a lui ma questo sgorbuticamente non ci riconosce quelle peculiarità che abbiamo messo in campo è evidente che la voglia di customizzare un prodotto nasce quando abbiamo un grande committente quando dall'Arabia Saudita quando da Dubai quando da dei paesi esteri ti danno come committenti un prodotto quale un edificio da realizzare il produttore si esalta ha perché punta veramente a customizzare al dettaglio quello che fa e ci sono delle realizzazioni alle mie spalle che lo dimostrano ma anche perché questa esaltazione porta ad una realizzazione di tale importanza che distingue ancora di più la valenza della nostra azienda ma non solo della nostra azienda del manufatto italiano della volontà brianzola di esserci di esserci sempre stati e di sperare di avere committenza di quel tipo purtroppo la domanda che dice Massimiliano dell'architetto Fadin è questa di fronte a una committenza che a volte dà prima delle indicazioni di un certo tipo e poi le varia perché ha delle problematiche di tipo finanziario delle problematiche di pochezza di intenti all'interno del prodotto quindi si parte dallo scegliere la lastra d'oro e si finisce con l'andare a cercare il pezzo di stagno si inizia con un tavolo di un certo livello e si finisce con il tavolo che si compra all'IKEA il problema oggi è proprio questo mettere al centro il valore del prodotto perché questo faccia sì che il cliente capisca lo sforzo che facciamo nel progetto io continuo a sostenere che questa valenza va fatta insieme il produttore ha un suo dovere di produrre e di fare cose che siano sempre attente all'esigenza del mercato e l'architetto a sua volta ha questa capacità di porgere nell'insieme degli elementi che va a portare alla committenza questo significato beh mi sembra molto esastivo ci sono delle domande nessuno vuole il caffè doppio bisogna aumentare la posta ah bene prego se si arriva al microfono così sentono tutti io non per il caffè perché sennò divento troppo nervosa no innanzitutto prima della domanda volevo fare un ringraziamento forse non lo fa penso di poterlo fare a nome di tutti mi presento sono Fabiana Molteni sono presidente dell'ordine degli architetti per cui volevo fare un ringraziamento innanzitutto all'IVM perché ci ha ospitato in questo luogo un'azienda che io già conoscevo però penso che sia fondamentale anche dare la possibilità ai colleghi di conoscere le aziende del nostro territorio azzeccatissimo poi tutto quello che lei ha detto è sicuramente quello che verrà successivamente anche in riferimento al titolo cioè ben essere che se lo dividiamo è ben e essere e penso che un ambiente di questo genere lo dimostri quindi grazie grazie ancora domande per quanto ha detto lei non ne ho perché sono perfettamente in linea un ringraziamento anche all'architetto mi verrebbe mi verrebbe da chiedere come ci ha detto i clienti importanti i clienti soprattutto sensibili vanno cercati un po' come cane da tartufi viviamo tutti adesso una situazione difficile ma lo sappiamo cioè facciamo molto fatica a lavorare poi magari entraremo un attimo nel discorso economico ma anche la difficoltà di lavoro cioè io mi rendo conto parlo a nome dei colleghi che rappresento siamo Monzebrianza 55 comune più di 2500 iscritti e la difficoltà che abbiamo è che il ruolo ormai dell'architetto purtroppo non è più quello che avevamo una volta e sicuramente anche il fatto che siamo in una realtà di piccoli studi cioè uno o due persone non riusciamo a a forse anche a farci valere a far valere le nostre idee a farci conoscere meglio e forse anche a essere preparati dobbiamo essere molto preparati per stare quindi più che una domanda è sicuramente un ringraziamento alle sollecitazioni che ci sono state fatte cioè anche il fatto di fra di noi forse cambiare un po' mentalità cambiare un po' metodo operativo fare più comunicazione all'interno delle aziende fra di noi perché se no molto probabilmente le grandi commesse di Dubai al di là del fatto che bisogna essere preparatissimi e qui lancio un altro messaggio che quando posso essere presenti agli eventi faccio cioè questi incontri secondo me sono importanti perché ci formano non parliamo più di crediti perché vi prego io avevo speravo che il mio consiglio mi seguisse io quest'anno avrei voluto fare gli eventi formativi ma non tutti con i crediti ma con delle scelte mirate perché noi ci siamo sempre formati almeno i professionisti che volevano rimanere sul campo lavorare migliorare si sono sempre formati indipendentemente io richiamo permettetemi punti fragola i colleghi che mi sentono agli incontri lo sanno e ogni tanto lancio anche i loro messaggi dicendo non facciamo le corse per i crediti perché ne buttiamo via tanti dobbiamo farne minimo 10 all'anno guardi basta che uno va a 3,20 e ha già preso i crediti quindi andiamo con uno spirito diverso vediamo le cose in un modo veramente culturale diverso mi unisco magari al suggerimento alla domanda che il moderatore ha fatto al dottore forse perché come presidente di un ordine abbiamo leggiamo anche le criticità dei colleghi che ogni tanto incontriamo del fatto ma come potremmo tutelarci per essere pagati e ahimè non è che abbiamo molte possibilità al di là di tutti i suoi suggerimenti che lei ci ha dato che non so io forse sono vabbè da un po' che lavoro per cui se non faccio io la valutazione fra preventivo e consuntivo le assicuro che me la fa il cliente man mano che faccio gli stati di avanzamento lavori perché se inizio ad andare fuori i budget sicuramente è difficile che si arrivi a consuntivo completamente senza avere tenuto sotto controllo la situazione però ci può stare qualche volta per cui anche soprattutto se ci rivolgiamo ai giovani è bene che queste cose si dicano un consiglio che posso dare come presidente dell'ordine ai colleghi ma noi che diamo quando vengono ci chiedono incontri anche in sede è quello che per poterci tutelare per poter essere pagate ahimè non essendoci più neanche le tariffe perché purtroppo siamo in queste situazioni è quello di fare dei contratti iniziali cioè io mi sento adesso di parlare come presidente di un ordine l'ordine può aiutare i colleghi in fase di contenzioso in fase di definizione poi perché poi si arriva a litigare quando non ti pagano perché all'inizio è tutto bello eccetera per cui è quello magari di stipulare dei contratti grandi piccoli 10 pagine 100 pagine a seconda se devi fare un palazzo piuttosto che una semplice ristrutturazione con delle idee chiare solo in questo modo parlo come come presidente di un ordine noi riusciamo a dare una mano agli iscritti penso che in questo momento non ci siano altre possibilità scusate più che domande erano state degli interventi grazie a voi posso aggiungere una cosa alle sue parole solo sottolineando che sono completamente d'accordo sia dal punto di vista che la formazione io faccio formazione agli avvocati agli architetti quindi credo nella formazione della sostanza e non nel recupero dei crediti alle sue parole aggiungo solo questo aspetto proprio perché le aziende monitorano in modo continuativo il lavoro del progettista e probabilmente vi mettono anche in qualche modo a volte in difficoltà nel dovere voi rispondere quello che diceva lei prima il mio suggerimento è quello di trasformare quella che appunto tutti conosciamo come una minaccia cioè il rischio che poi non veniate pagati sufficientemente o si facciano scelte diverse compreso la qualità dei materiali la qualità del prodotto e non si prende invece in considerazione che siate voi stessi con delle conoscenze comunque legate all'esperienza come diceva l'architetto che in questo momento ha parlato ma anche con quelle che possono essere un minimo di competenze economiche perché in quel modo siete maggiormente tutelati avere voi la competenza per andare un attimino a fondo di alcuni argomenti che ho trattato io oggi vi aiuta ad essere più sostenibili e più difendibili e non lasciare poi che magari sia il cliente come diceva lei che vi faccia le pulci e voi siate in qualche modo ostaggio del cliente senza aver fatto voi prima determinate valutazioni in questo senso ho parlato di opportunità anzi che minaccia io lo vedo molto spesso che quando sono io che non dico attacco ma io sono la persona che mi metto in primo piano e non ho paura di confrontarmi anche su questi ambiti probabilmente ottengo di più probabilmente poi la ricetta non ce l'ho sul discorso dei contratti della mancanza di tariffe io posso solo dire che condivido ma non ho molti strumenti da dire ecco grazie ok c'è qualcun altro che vuole intervenire allora io volevo fare solo due considerazioni finali poi abbiamo la pausa allora la prima è quella legata al fatto per quello che diceva adesso la presidente dell'ordine che insieme a Infoprogetto organizzando questi eventi in giro con tutta Italia percentualmente almeno in ogni tappa c'è un architetto che si alza sul mio sempre sollecito e tira fuori tutta la rabbia che ha dentro di questa situazione professionale che si porta dentro e tendenzialmente punta il dito su di me perché sono un moderator dicendo lei deve fare lei deve fare lei 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 al di là che magari potessi avere questa capacità e questo potere però la considerazione che voglio fare è la premessa che ho fatta inizialmente è che effettivamente quello che si sta vivendo a livello nazionale quindi parlo da Milano Monza piuttosto che Torino piuttosto che Napoli piuttosto che Roma è che la figura professionale dell'architetto è molto bistrattata in questo momento ce n'è sicuramente una quantità abnorme io sono anche architetto voglio dire quindi mi metto in mezzo ma voglio dire ci sono ordini tipo quello di Roma che ha 23.000 architetti c'è una città c'è una città fatta di architetti poi quelle che eh? no no ok ok però voglio dire ed è chiaro che è anche poi difficile è anche poi difficile no? andare a tarare anche la capacità di comunicazione e l'approfondimento no? perché è chiaro che poi ci sono professionisti che hanno un certo grado culturale tu porti magari come è successo in tante tavole rotonde dei colleghi che fanno degli eventi importanti e poi lui dice ma io faccio la risultazione del bagno lei mi fa vedere un flusso di modellazione dinamica energetica di una torre di Dubai io quando ci arrivo lì ok? quindi c'è questa problematica però secondo me ci sono due piccole ricette no? allora uno sicuramente è la formazione per quello che diceva lei io concordo pienamente perché noi facevamo questi eventi già prima dei crediti devo dire che oggettivamente il numero dei partecipanti era molto minore e quando abbiamo ricevuto tra virgolette delle critiche è stato detto ma scusi lei tre anni fa dove era? si stava formando o no? perché se no continua a fare con tutto il rispetto la riqualificazione del bagno della signora Maria e quindi la formazione è fondamentale non solo in workshop così allargati ma anche formazione mirata perché oggi io credo che il professionista almeno su alcune tematiche deve diventare un esperto deve essere esperto ok? non può esserlo di tutto però dall'altro canto questa dicotomia c'è esiste non si può essere super esperti di tutto di design di benessere di ergonomia di risparmio energetico di sostenibilità e quindi quello che ho detto io nella premessa iniziale perché mi porto un bagaglio culturale di esperienza di questi eventi ormai da 4-5 anni la rete la rete e la rete non è solo fatta tra professionisti tra ingegneri architetti che si odiano non si odiano non lo so però è chiaro che probabilmente la competenza di un ingegnere strutturale rispetto a un impiantista è diverso da quello di un architetto di un perito di un geometra però è chiaro che la competenza specifica va messa in rete uno due e non lo dico perché sono qui in IVM IVM o IVM perché io dico IVM vabbè ok tutti e due però il concetto di essere partner perché io credo che questa sia la parola di là che gli inglesismi non mi piacciono però partner nel senso di collaborare con aziende che ci credono in questo rapporto che non è univoco cioè tu devi comprare i miei prodotti ma tu devi anche aiutare a farmi capire magari le tendenze nel mercato in modo anticipato o magari su delle nicchie di mercato ritornando al discorso della parola che non ti piace è customizzazione quindi secondo me questi sono due aspetti da una parte la formazione vera quella seria e dall'altra parte la rete rete tra professionisti e rete con le imprese che innovano con le imprese che possono anche dare a loro volta della formazione al professionista quindi questo voglio dire sono e il terzo aspetto purtroppo ci viviamo io lavoro professionalmente in un'azienda nel momento che c'è anche solo la parola di un possibile appalto la prima cosa che facciamo è andare al Cervet a vedere se l'impresa per quanto può servire è questo è il primo lavoro è paradossale perché prima uno diceva il progetto è bello è funzionale no oggi andiamo a vedere se il Cervet ci dice che il semaforo è verde piuttosto che giallo piuttosto che rosso e purtroppo il 50% partiamo già dal giallo e quindi hai già il 50% di dire ma chissà come andrà a finire però bisogna essere positivi quindi voglio dire incontri come quello di oggi credo che siano veramente importanti grazie a tutti